Ciao amiche e ciao amici, questo video per rimarcare la stupidità dell'essere umano che diciamo con la sua cattiveria potremmo dire ha provocato l'estinzione di moltissimi animali tra cui 5 grandi animali negli ultimi anni proprio a causa della sua stupidità però è inevitabile che continuando in questo modo anche l'essere umano si estinguerà da questo pianeta e avremo una vita come specie sicuramente molto più breve di quella di molti altri animali tra cui dinosauri ad esempio che hanno abitato su questo pianeta per 65 milioni di anni quindi questi animali che non esistono più sono la tigre del Caspio per causa della caccia ovviamente dal 1970 si è estinta, era uno dei più grandi felini esistenti sulla Terra un altro felino più piccolo, molto più piccolo il lopardo di Zanzibar istinto nel 1990 poi un altro mammifero nel 2000 lo stambecco dei Pirinei anche qua a causa della caccia e ancora un felino sempre a causa della caccia è il Coguaro nel 2011 e infine nel 2012 un rettile, la testugine dell'isola Pinta che è l'ultimo esemplare morto di vecchiaia nel 2012 ma non si è più riprodotto a causa dell'essere umano fondamentalmente ecco tutti questi animali diciamo così ringraziano e l'essere umano in modo nell'altro ne pagherà ne pagherà le conseguenze comunque bene per questo video è tutto al prossimo, ciao